A pochi mesi dall'apertura della piscina con questa brutta sorpresa questa notte. Sì, effettivamente stamane quando mi hanno svegliato le donne delle pulizie che erano stati ladri in piscina è stata una grossa sorpresa. La più grossa sorpresa l'ho avuta quando mi sono regato nell'immediatezza nei locali della piscina e ho visto quegli stupidi danni creati perché nessuno mi toglie dalla testa che sia stata un'attività volontaria dovuta esclusivamente a creare danni stupidi e ignobili che hanno creato danni in stanze dove addirittura le porte erano aperte e non ci sarebbe stato alcun senso di aprire dei fori nei muri con picconi o mazze che non hanno nulla a che vedere con un fatto di furto di rabbina che peraltro reputo sia stato totalmente fruttuoso perché noi non teniamo denari né noi né l'associazione teniamo denari presso la piscina. L'unica cosa che hanno trovato al di là degli spiccioli che hanno lasciato per terra nel pavimento qualche contante, circa un paio di cento euro relativo al fatto che stavano organizzando una cena quindi stavano facendo una raccolta di una colletta per fare questa cena e hanno appunto approfittato di questo denaro. Per il resto hanno fatto solo danni hanno asportato sia la cassetta del sistema d'allarme che quella di videoregistrazione e hanno rotto delle porte, delle vetrate, hanno fatto dei buchi nei muri, insomma i danni sono notevoli però nessuno ci fermerà, nel pomeriggio riapriremo la struttura. Nella mattinata non è stato possibile ma anche con i lavori in corso nel pomeriggio apriremo la struttura. Ride notturno al Campo Sticchi gestito all'Unione Sportiva Tolentino, ecco cosa è successo in dettaglio? In dettaglio sono entrati, adesso non sappiamo in quanti, però erano di notte, ecco, verso le 4 della mattina hanno rotto le reti, hanno tolto l'elettricità, quindi sono riusciti a togliere l'elettricità da tutta la via sono entrati nel bar, negli uffici, quello che è brutto, insomma che con i picconi hanno tendenzialmente devastato tutto sostanzialmente quindi non so ad opera di chi, però l'opera è stata di devastazione sostanzialmente i danni li stiamo un attimino calcolando, avevamo in azione il sistema di videosorveglianza che ha registrato tutto loro sono riusciti ad arrivare dove avevamo gli hard disk della videosorveglianza però questo registra anche all'esterno, quindi problemi non ci sono stati abbiamo dato tutto ai carabinieri che stanno ovviamente valutando le immagini non sono riusciti a portarsi via tutto, hanno cercato di rompere tutto, hanno poi rotto le telecamere cercando di devastare il più possibile, ovviamente i danni non sappiamo in questo momento, so per certo che il sistema di videosorveglianza è costato intorno ai 2500 euro tutte le porte, obiettivamente siamo intorno ai 5000 euro di danni sostanzialmente non paghi di questo poi hanno rotto anche i vetri delle macchine esterne quindi quelle che hanno potuto trovare quindi sostanzialmente un'opera di devastazione più che di un'opera per portare via qualcosa perché poi all'interno dello stick non c'è nulla, soldi non ce ne sono ci sono dei computer ma sono rimasti lì, quindi sostanzialmente hanno devastato quindi non c'è nulla, soldi non c'è nulla, soldi non c'è nulla